Una settimana di indagini intense condotte dalla procura di Castrovillavi con il supporto dei carabinieri ha consentito di chiarire le circostanze in cui è maturato l'omicidio di Yuri Zinchenko, il cui corpo è stato rinvenuto senza vita domenica scorsa 3 settembre nel bagagliaio di un'auto parcheggiata in località Vascellero di Cariati. Tre provvedimenti di fermo sono stati emessi nei confronti di due donne di nazionalità ucraina, Lyudmila Popova Iana Kosciova e di un lituano Midis Dimitrix accusati di aver commesso il delitto, una quarta persona tuttora ricercata. I particolari dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa del procuratore capo di Castrovillavi e Eugenio Facciolla, cui hanno partecipato anche il sostituto Luigi Spina ed i comandanti dei carabinieri di Corigliano e Rossano della Cueva e Sganzevla. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima che aveva precedenti penali per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e che godeva di un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Crotone per fini umanitari, svolgeva lungo la costa ionica tra le province di Cosenza e Crotone l'attività di reclutamento di personale dell'est europeo da avviare al lavoro di bracciante o di badante, trattenendo per sé una quota sulle retribuzioni. Il delitto sarebbe scaturito da dissapori legati forse alla distribuzione dei proventi delle attività illegali, o forse dal desiderio di Dimitrix di scalzare Zinchenko dal suo ruolo di leader. L'omicidio si sarebbe consumato nell'appartamento di torretta di Crucoli in cui il gruppo abitava. Poi, mentre la Popova provvedeva a ripulire l'alloggio, gli altri complici si sono occupati di abbandonare il corpo utilizzando due vetture, la prima con funzioni di staffetta per verificare l'eventuale presenza di posti di blocco, la seconda come mezzo di trasporto del cadavere. Per quanto concerne l'esecuzione materiale dell'omicidio, Zinchenko è stato ucciso con diversi fendenti, inflitti all'addome, poi finito a colpi di pistola. Si attende l'esito dell'autopsia per chiarire la sequenza e la dinamica del crimine. È stato un caso, devo dire, davvero particolarmente difficile e complesso perché avevamo soltanto un cadavere letteralmente buttato in un cofano di un'autovettura, peraltro targa straniera, quindi autovettura intestata a soggetto straniero, senza generalità, documenti, quindi davvero un caso, devo dire, da film. Il soggetto è stato accoltellato e attinto a colpi di pistola. L'omicidio è stato consumato da quattro persone, che sono i quattro che abbiamo fermato, uno è in stato di reperibilità, ovviamente con ruoli diversi. Certamente sono i due uomini che hanno agito in prima battuta sull'azione violenta e le due donne in attività di contorno. Salvatore Bruno per la CNews 24.